Matteo e Lucia, come state? Tutto a posto? Bellissimo! Molto bene! Una giornata stupenda con Amani, ha pianificato tutto, per tutto perfettamente spiegato bene, scegliendo i posti giusti, i momenti giusti, esatto, il momento giusto, ho anche anticipato i tempi, quindi abbiamo goduto un po' del fresco, abbiamo trovato un bellissimo posto dove pranzare, adesso siamo qua a Saccara e stiamo praticamente per cura di tutto. Come le tour alle piramidi? Piramidi stupende, come ci aspetta l'Amo, ma forse ancora di più, il tour è stato stupendo e assolutamente consigliato a tutti di venire con me. Grazie, grazie. Ciao! Ciao!